Bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video, Excel Magico numero 123. Oggi parliamo di doppia convalida dei dati. Ma cosa sarà mai questa doppia convalida dei dati? Bene ragazzi, niente paura, semplicemente abbiamo la possibilità di creare dei menu a tendina e poi dei sottomenu a tendina contestuali, diciamo, alla scelta del primo menu a tendina. Cosa vuol dire questo? Ecco, supponiamo che qua, ad esempio, come primo menu principale abbiamo delle case automobilistiche, ok? Ok? Alfa Romeo, Fiat, Audi, eccetera, eccetera. E contestualmente, diciamo, la scelta del primo menu abbiamo un sottomenu, un sottomenu intelligente, diciamo, che va a vedere tutti i prodotti che sono contestuali alla scelta del primo menu, ok? Se dovessi scegliere, ad esempio, Volkswagen, avrei tutti i prodotti, i modelli delle Volkswagen. Ecco, io con la stessa tecnica potrei trovare anche altri sottomenu, ad esempio, visto che stiamo parlando di automobili, potrei avere, non so, un sottomenu degli accessori e piuttosto che degli autoricambi. Potrei fare tanti altri sottomenu. La tecnica è sempre la stessa, come se parlassimo del primo menu, ok? Bene, ragazzi, tutto questo è abbastanza semplice, niente di particolarmente difficile. Ne avevo già parlato comunque in un altro video, della Excel Magico numero 7, un video molto lungo che vi lascio qua in alto nelle schede, un video che parlava sostanzialmente dell'inventario e molti di voi, diciamo, questo topic qua, della doppia con vari dei dati, non l'hanno mai visto, proprio perché era dentro un video molto lungo. E tanti di voi mi avete chiesto qua in basso, nei commenti di YouTube, come fare a fare questo. Io, ovviamente, ogni volta linkavo, diciamo, il video, però ho ritenuto opportuno creare un video dedicato a questo topic qua, che è importante, così è anche facilmente poi ricercabile all'interno del mio canale. Bene, ragazzi, come facciamo a fare questo? Ecco, giusto il tempo di ricordarvi di iscrivervi al mio canale e poi di selezionare la campanellina in modo tale che venite informati ogni qualvolta che io pubblico un nuovo video. Bene, ragazzi, per fare tutto questo, ovviamente, mi sono fatto aiutare, diciamo, da un foglio di servizio dove mettiamo tutti i nostri elenchi. L'elenco principale è la casa motovolistica, poi abbiamo tutti gli altri elenchi che sono i sottomenù, che sono tutti i modelli, ok? Bene, ragazzi, per fare tutto questo, lavoriamo con la convalida dei dati. Abbiamo visto anche in altri video come creare un menu a tendina e utilizziamo la convalida dei dati. Ecco, all'interno della convalida dei dati, in questo caso qua, però metteremo una piccola funzione, che è la funzione indiretto, ok? La funzione indiretto ci restituisce, diciamo, un intervallo, come in questo caso qua potrebbe essere, non so, Audi piuttosto che Alfa Romeo, ci restituisce un intervallo in base alla scelta di un nome, ok? Per cui io, se nella funzione indiretto scrivo Fiat, mi restituisce questo elenco qua, ok? Per farmi restituire questo elenco qua, che servirà appunto alla funzione indiretto, abbiamo bisogno di dare un nome ad ogni elenco, per cui io questo elenco qua lo chiamerò Fiat, questo elenco qua lo chiamerò Alfa Romeo, questo elenco qua lo chiamerò Audi, in modo tale che quando sceglierò un nome, diciamo, dal menu principale, mi restituisce un elenco. Per cui, come prima cosa, molto importante, dobbiamo dare un nome ad ogni elenco, per cui lavoriamo con la definizione dei nomi, ok? Come facciamo a dare un nome a questo elenco qua, piuttosto che questo e questo qua? Ci sono diversi modi. Il primo modo è quello di andare, per esempio, a selezionare l'intervallo che ci interessa, e qui nella casella del nome andiamo a scrivere, diciamo, casa automobilistica, poi premiamo invio. Oppure semplicemente possiamo andare qua nel ribbon, qua in alto ci sono le fomole, andiamo qua in alto in definisci nome, vedete che mi viene fuori un piccolo wizard, io do il nome e poi do l'intervallo, ok? Vedete che qua è tutto selezionato. Bene ragazzi, ma visto e considerato che gli elenchi sono tanti e potrebbero essere ancora molti di più, speriamo appunto che ci fossero altri elenchi, tipo accessori, autoricambi o altre case automobilistiche, vale la pena fare un trucchetto dove io praticamente mi costruisco con pochi click tutti gli elenchi, ok? Come prima cosa vado a selezionare tutto questo intervallo qua, potrei fare anche semplicemente CTRL asterisco, ok? Ecco, tenete presente una cosa, che se io vado a nominare tutti questi elenchi qua, avrei tanti spazi vuoti perché ogni cella vuota corrisponde poi a uno spazio vuoto all'interno del menu a tendina, per cui devo fare in modo che io seleziono solamente e diciamo l'intervallo fino a quando abbiamo le celle piene, ok? Potrei farlo tenendo premuto il tasto CTRL, oppure visto che sono ancora tanti, facciamo CTRL asterisco per selezionare tutto questo intervallo qua. Poi andiamo nella scheda home, andiamo qua sulla destra dove c'è scritto trova e selezione, andiamo a premere il tasto buy A, mi viene fuori questo wizard qua, oppure per farmi comparire questo wizard qua possiamo semplicemente, senza andare in alto nella ribbon, premere il tasto funzione F5. Ecco, dopodiché vado a premere speciale e vado a spuntare costanti, cioè tutte le celle costanti, quelle piene. Vado a dare l'ok e vedete che mi seleziona tutti gli elenchi. Ecco, adesso dobbiamo dare un nome a tutti questi elenchi qua. Possiamo andare qua in alto nella scheda formule, andiamo in crea da selezione, mi viene fuori questo wizard qua e vado a selezionare solamente riga superiore che corrisponde, diciamo, a tutte le etichette che sono nell'intestazione di colonne. Ecco, per far comparire questo wizard qua potrei farlo anche con i tasti scelta rapida che io sono particolarmente affezionato, CTRL, SHIFT, tasto funzione F3. Ok, vedete? Mi viene fuori lo stesso wizard e quando io andrò a premere ok noterete che io qui, diciamo, dalla casella dei nomi ho praticamente tutti gli elenchi e quando ne seleziono uno praticamente vedete l'intervallo mi va a selezionare ecco qua. Bene ragazzi, abbiamo creato con la definizione dei nomi un nome per ogni elenco ed era quello che serviva la funzione in diretto per poi farmi restituire un elenco in base alla scelta di una stringa. Ok? Bene ragazzi, nel passaggio successivo andiamo a vedere come inserire il primo menu a tendina che è il menu a tendina della casa automobilistica. ecco, posiziono la cella laddove voglio che venga poi visualizzato il menu a tendina in questo caso qua nella cella B4 vado qua in alto nella ribbon e nella scheda dati vado a scegliere con vari dei dati e poi con vari dei dati. Mi viene fuori questo wizard qua. Ecco ragazzi, io ho usato il mouse per farmi avere questo wizard qua niente di male ma se siete particolarmente affezionati diciamo alla scorciatoia di tassi scelta rapida vi consiglio di fare la scorciatoia che in questo caso qua va bene solamente per queste versioni di Excel che ho io Excel 2013 è che premendo il tasto Alt vedete mi vengono fuori tutti i numerini e le letterine vado a premere la lettera A che è in corrispondenza della scheda dati poi vado a premere Cc che è in corrispondenza dello strumento con vari dei dati e poi vado ecco qua Cc poi vado a premere V ok? e mi viene fuori questo wizard qua dopodiché vado a premere Tab per posizionarmi qua in consenti poi ancora E per dare l'elenco e poi Tab per posizionare il cursore laddove c'è il campo origine ok? dopodiché qui metteremo diciamo il nostro elenco facciamolo un po' in fast motion Alt A C V Tab E Tab ok? a questo punto qua dobbiamo andare a prendere un elenco ecco normalmente per prendere un elenco andiamo nel foglio successivo e andiamo a selezionare l'elenco ma visto che tutti gli elenchi sono stati nominati perché non approfittiamo dello strumento incolla nomi per andare a incollare qua dentro il nome ecco io potrei anche scrivere volendo casa automobilistica qua dentro ma per evitare di fare errori io non faccio intanto che premere il tasto F3 mi viene fuori il wizard dell'incolla nomi e con le freccettine vado a scegliere casa automobilistica ok? do l'ok vedete che lui mi ha inserito qua questo elenco qua ok? dando l'ok vedete che lui finalmente mi ha costruito diciamo il primo elenco con la prima convida questo qua è semplicissimo l'avevo già visto fare tante altre volte in altri video adesso però la cosa si complica un pochettino diciamo che non è difficile però comunque bisogna sapere come si fa vado a richiamare alt accv la mia bella convida dei dati tab e tab ecco qui dovrei mettere una funzione la funzione indiretto che lì per lì è semplicissimo però io non la metterò qua dentro la metterò fuori la formula giusto per farvi capire alcuni processi è giusto perché poi dopo abbiamo un problemino e se abbiamo un problemino dobbiamo aggiungere altre funzioni e qua dentro le altre funzioni non si leggerebbero bene per cui facciamo la formula qua esternamente e poi la incolliamo dentro quella wizard che abbiamo visto poc'anzi semplicissimo iniziamo con la funzione indiretto ok la funzione indiretto che come potete leggere qua ci restituisce appunto un riferimento indicato da una stringa la stringa ovviamente in questo caso qua sarà il nome fiat ok ovviamente fiat perché qua è fiat ma poi ovviamente cambierà perché se diventa alformeo piuttosto che audi cambierà mi chiede come argomento primo argomento riferimento e andiamo a selezionare qua ok do un f4 anche se adesso questa formula qua non dobbiamo copiare da nessuna parte do un riferimento comunque assoluto perché poi andiamo a incollarla dentro la comandata e potrebbero esserci dei problemi ecco se io seleziono il tutto potete notare f9 vedete che mi dà tutto l'elenco ed era quello esattamente che volevo io vedete ogni stringa è tra virgolette poi c'è anche il puntino vuol dire che saltiamo da una riga all'altra ecco vediamo cosa accadrebbe se volessi cambiare da fiat passassi in audi ecco vedete lui fa esattamente il suo dovere mi restituisce un elenco così come lo volevamo noi ecco vediamo cosa accadrebbe se volessi scegliere ad esempio alfa romeo ops mi dà un errore errore riff cioè lui non trova il riferimento la funzione diretto non trova la parola alfa romeo all'interno diciamo di quei elenchi che avevamo creato noi prima ma perché non la trova perché la stringa alfa romeo è composta da una parola poi c'è uno spazio vuoto e poi c'è romeo alfa spazio vuoto romeo che non ha un'esatta corrispondenza con il nome definito perché il nome definito se noi andiamo qua da questo minotendino della casella del nome notiamo che la stringa alfa romeo è una stringa unica composta da alfa underscore romeo perché allo strumento definizione dei nomi lui di default mi mette un underscore per ogni diciamo stringa che ha più parole al suo interno perché è uno strumento che lavora con una stringa unica e in questo caso qua ovviamente lui mi ha messo l'underscore ma ovviamente non c'è un'esatta corrispondenza con alfa romeo che c'è qua ok quindi ci sono diversi modi per agire il problema il primo modo quello più semplice è quello semplicemente di andare a modificare le liste alfa romeo ok ad esempio qua mettiamo un underscore però ovviamente provate a immaginare se ci dovessero essere tantissime altre liste sotto liste compagnia bella doveva andare a modificare tutte le liste che hanno più di una parola questo potrebbe essere un problema e oltretutto comunque non ha una bella leggibilità perché a me piace leggere alfa spazio vuoto romeo non alfa underscore romeo per agire il problema si può fare con le formule ok ecco cancelliamo un attimino questa formula qua e andiamo a utilizzare la funzione sostituisci cioè la funzione sostituisci mi serve per ecco qua se riesco a scriverlo perché c'ho davanti il microfono ecco sostituisci mi serve a sostituire lo spazio vuoto con un underscore ok per cui sostituisci ecco qual è il testo ovviamente questo qua do un F4 per quello che dicevo prima perché diamo un riferimento assoluto perché andiamo a copiarlo poi all'interno della conferenza dei dati punto e virgola mi chiede testo precedente qual è il testo precedente cioè io voglio che lo spazio vuoto venga sostituito con un underscore per cui il testo precedente è lo spazio vuoto per cui apro le virgolette metto lo spazio vuoto e poi chiudo le virgolette perché ho aperto le virgolette perché essendo uno spazio vuoto comunque un carattere va messo tra virgolette facendo il punto e virgola mi dice qual è il nuovo testo il nuovo testo ovviamente è l'underscore ok più dalla parentesi vediamo come istituisce questo pezzettino qua vedete lui mi ha riprodotto diciamo la stringa alfa spazio romeo in alfa underscore romeo ok ed era quello che aveva bisogno la funzione indiretto per leggere appunto i nomi che sono stati definiti a questo punto mettiamo il tutto all'interno della funzione indiretto ok indiretto che cosa? questo nome qua ovviamente se la stringa è composta di un solo nome non sostituisce niente ma solo quando è composta da più parole diciamo mette l'underscore in mezzo adesso in questo caso qua possiamo notare che la funzione indiretto mi restituisce correttamente l'elenco ok ctrl z ctrl enter andiamo a vedere se cambiamo con Volkswagen c'è qualche problema no non ci sono più problemi f9 a questo punto funziona correttamente non faccio nient'altro che copiare il tutto faccio un doppio clic oppure il tasto funziona f2 seleziono tutto compreso il segno uguale ctrl c per copiare premo escape ma comunque non vi preoccupate lo mantengo in memoria a questo punto andiamo a chiamare la convalida dei dati posizioniamoci laddove vogliamo che venga poi il menu tendina alt accv facciamo tab e tab e qua mettiamo quella formula che ho copiato e la incollo ctrl v per incollarla ok vedete che qua si legge è malissimo è piccolissimo e comunque se avessimo scritto la formula qua dentro sarebbe stato poi un problema farla correttamente a meno che poi conoscete bene le sintassi delle formule ma vi consiglio sempre di fare le formule esternamente e poi copiarle qua dentro premendo ok potete notare che il menu tendina mi funziona correttamente se utilizzo fiat funziona tutto alla grande ecco ragazzi secondo me questo qua è uno strumento molto buono avere questi sottomenu intelligenti che ci permettono appunto di filtrare secondo la scelta precedente provate a immaginare se non ci dovessero essere questi sottomenu qua avremo delle liste veramente lunghissime ecco provate a immaginare se i modelli fossero molto di più oppure se avessimo anche altri sottomenuti poi ad esempio non so in questo caso qua che parliamo di auto potremmo avere non so accessori auto per cui su ogni modello ci dovrebbe essere i vari accessori auto per cui avremo delle liste veramente veramente lunghissime invece così riusciamo a stringere sempre di più il campo riusciamo a filtrare per cui ben venga questo trucchetto qua ben venga questo topic che io ne ho voluto parlare proprio in esclusiva proprio perché nel video precedente era stato un po' ignorato quindi ragazzi mi sembra di aver detto tutto se ho detto qualche inesattezza o avete qualche domanda da fare ditela pure qua in basso nei commenti di youtube siamo veramente arrivati alla parte finale del video giusto di ricordarvi un like se vi è piaciuto oppure un dislike se non vi è piaciuto avete anche il pulsante rosso iscriviti qualora non vi siete mai iscritti e volete iscrivervi al mio canale non vi costa niente ovviamente bene ragazzi e vi ringrazio e alla prossima ciao ciao a tutti Grazie a tutti.